Buongiorno amici di Jane Fox, siamo qui col dirigente scolastico Carlo Femi nell'istituto comprensivo Ardia 3, assistito ad una lezione effettuata con il metodo di Jane Fox, cosa ne pensa? Ma intanto un saluto, io conosco da tempo James Fox, siamo ormai amici e quindi conoscevo già il modo e la ritengo un modo eccezionale di interagire con i bambini, bambini attentissimi, divertiti e interessati. Soprattutto riguardo l'uso di telecomandi e delle nuove tecnologie? Beh, rende tutto sicuramente più creativo e hanno la possibilità di partecipare contemporaneamente anche all'attività di risposta, quindi alle sollecitazioni rispondono immediatamente, tutti insieme senza che siano coinvolti uno per volta, quindi c'è una partecipazione corale. Se potesse utilizzare questo metodo interattivo in altre materie, quale sceglierebbe? Ma credo che si possa applicare su tutte le materie, fermo restando, che laddove si tratta di passare conoscenze e informazioni, questo è possibile farlo benissimo in questo metodo. Cosa ne pensa dei temi affrontati sulla sicurezza e sulla legalità? Beh, attualissimi, sono quelli che tutti i giorni noi proponiamo ai ragazzi, si tratta di affinare le competenze e in questo modo credo si possa dare una mano su questo, quindi va bene. Se i suoi ragazzi dovessero arrivare in finale, vuole fargli un augurio? Beh, un augurio, sono bravissimi, ritengo che ci vadano e se andranno sarò con loro. Un saluto a Jane Fox. Tanti cari saluti, ci rivediamo presto, tanto ormai siamo amici, abbiamo detto. Grazie a tutti.